Buongiorno. Chi è questo? Sta a abbronzare. Buongiorno. È duro sì, grande. È ripida e più è bella. E vai, grande. Guarda dove dobbiamo arrivare, su quel cucuzolo. È dura ragazzi. E guarda là che c'è davanti a te che... Ora dobbiamo arrivare su quel cucuzolo là, va. Su quel cucuzolo là la vedo dura, però dobbiamo scavare. Vai Domenico. Bellissima. Durissima. Levissima. Il centro storico di Belmonte. Vai a sinistra, a sinistra. Siamo partiti da sinistra e siamo arrivati in cima. Va sì. Nemmeno al 30% sta salita ragà. Qualche spettacolo là. Scogli dell'isca, ad Amantea. Ma uno stesso può mangiare pure... Magari. Che pace. Hai capito che pace. Avviene a pistare, a pistare. Io là stavo senza mangiare fino a settimana. A destra ragà. Che c'è un precipizio di tre chilometri. Quella è la stanza che abbiamo fatto noi prima. Qui gli acchi da calbo ne siamo girati. Qualche spettacolo. Stavamo in quella vallata a Fiumaro. Sì, a Fiumaro. Quella che abbiamo risolvito per metà. E poi noi siamo girati. Voi che c'è la stradina nel centro. Io mi volevo fare un po' in radio. L'ho mutuato e poi c'è la misura. Voi che c'è? Aspetta là. Ma l'hai facciuta solo un'altra. Ah sì, perché è dopo là. Voi che inizia, sì. E' quella. Solo che io non volevo fare il cuore a ciò. Volevo fare un giro senza dopo per tutti i cimbi. Guarda, guarda. Ciao, ciao. Ciao. Dai. Allora, vibe. bello bello, andiamo proprio sul dirupo andiamo sul dirupo dai un picco sul mare noi abbiamo posto il gangevole sottato gli amici venivano mangiare e stavamo aspettati avanti i barri non nel caso nostro la gente è così a fare chilometri accendono sotto per vedere i posti davvero bello si, però non conoscevano i posti belli della zona loro guardate i scogli i pochi da solo i marinati i fatti fatti acqua sorgiva la vitembrante fresca 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 guarda Morisi dove sei guarda qua guarda grande oltre poi ti mettiamo da vero dove facevi lui sta facendo perché non so cosa succede però non lo so ma in bagno e ma in bagno questo ma non solo questo in realtà la bellezza gli deriva da una cosa soltanto la bellezza gli deriva da una cosa soltanto la bellezza gli deriva la bellezza gli deriva da una cosa soltanto la bellezza gli deriva da una cosa soltanto la bellezza gli deriva da una cosa soltanto la bellezza gli deriva